Antonio Esposito, perché ieri mi consigliassi di venire in Thailandia? Perché non faccio coaching? Perché non faccio corsi? Perché non seguo più la gente? Perché una persona qui mi fa perdere tantissimo tempo che potrei dedicare a mille persone dall'altra parte. Le uniche persone a cui dedico tempo sono quelle persone che si mettono a servizio per qualcosa di più grande, in questo caso per i progetti che abbiamo. Per cui se tu ti metti a servizio dei progetti io sono a servizio tuo, ma semplicemente perché se lavoriamo assieme su un'idea comune, a quel punto è ovvio che spero e faccio in modo che tu possa stare più operativo e meglio il prima possibile. Ma se vieni con una finta idea soltanto per quello lo sgamo dopo un minuto, quindi divento, a parte che sono odioso a prescindere perché ti devo tirare fuori tutti i fastidi, quindi in linea di massima un comune mortale mi odia mediamente dopo 48 ore. Poi se riesce a trascendere la motivazione, a capire la motivazione per cui lo faccio, andare avanti, ne parliamo, se no se ne ritorna molto velocemente. Non perdo più tempo con chi non si impegna.